Senti Anna Maria, dove passerai tu l'ultimo dell'anno? Ancora è tutto da decidere, vediamo un po' quello che gli amici ci propongono. Sì ma una che ha questi vestiti, non è che può andare a scena dal poro beppino. No, 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 sicuramente qualcosa di molto eclatante. Molto chic. Molto chic. Questa è roba bella per l'ultimo dell'anno. Sì, molto. Bella anche da cerimonia, bella per qualsiasi evento, molto femminile, molto sensuale. Oppure da comprare per l'ultimo dell'anno ma da rimettere anche per le cerimonie. Certo, certo. Blumarine, Blumarine. Elisabetta Franchi, Blumarine. Blumarine, bella, anche questo maglioncino è tutto perlato. Con tutte le perle. Se fosse una donna sarebbe anitosissimo. I colori quindi per l'ultimo dell'anno? I colori in nero, questo nudo, questo colore non colore, l'argento tanto, tutto ciò che è luccica, che è paillette, argento, oro. Vedete anche lo stivale addirittura in... Lo stivale a calza, comunque sempre la me, che può essere abbinato a un abito da sera. Io vi ricordo nel frattempo che tutta questa bella roba con tutto ciò che Anna Maria Polci vende è raccolta anche in un sito online. Si, si, quindi vi invitiamo a visitarlo. Prestigeboutique.com A visitarlo ci sono anche delle promozioni, c'è la sezione della scorsa stagione, c'è la clienti più affezionata, sia per l'uomo che per donna, quindi potete approfittare perché insomma inizia un anno nuovo ma festeggiamo in qualche modo anche quello che sta passando, che sta per andare. Certamente, bisogna essere sempre allegri, con sorriso e fiduciosi. Poi fate l'amore, fate l'amore per l'ultimo. Molto, molto. Io per esempio sono solo che si potrebbe studiare. Inventa tu qualcosa. Buon anno. Auguri a tutti. Grazie a tutti.